Avete fatto una cazzo. Fiorello shock sulla Rai, si sono indignati. È successo chiaramente durante la solita diretta televisiva mattutina del mattatore italiano. Ai microfoni di Viva Rai 2, Fiorello ha voluto raccontare quello che è successo nelle scorse ore. La sinistra si indigna per Fiorello. Il conduttore fa riferimento a quella frase di ieri in cui diceva, quello di scurati e il monologo censurato più visto dei monologhi censurati. Ora Rosario torna sull'argomento e racconta, si sono indignati anche per noi che siamo all'acqua di rose e facciamo battutine, dice. Io mi sento tutto indignato, ma questa è una medaglia, qualcuno che si indigna per me. Se la satira suscita questo, è una medaglia. Voi sapete che programma facciamo, era la notizia del giorno. Non avremmo dovuto scherzare sulla grande cazzo che ha fatto la Rai a censurare il monologo? E ancora, proprio voi di sinistra, avete fatto i paladini della satira, l'avete sempre difesa e ora vi indignate per me? I comici, piacciono o non piacciono, devono fare satira su tutto e vanno difesi sempre. Poi Fiorello dice, la Rai ha sbagliato e se passate da Viale Mazzini ora non potete capire, si sentono rumori di ogni tipo. I 1800 euro chiesti non sono per il minuto di tempo che c'è dietro, ma sono per lo studio di anni e anni che ha permesso a Scurati di diventare Scurati. E ancora Rosario Fiorello, non è che paghi solo il minuto di esibizione, c'è dietro tutto. Poi ci è andato giù con l'ironia su Meloni, nel governo non tutti lo festeggiano, però ci sono prove di unione. Pare infatti che la Meloni abbia organizzato un picnic con Scurati. Solo ieri il mattatore aveva lanciato un messaggio all'amico e collega Marco Liorni, dopo la bufera relativa a quella frase all'eredità sull'oro alla patria. Fiorello allora dice, siamo tutti antifascisti, ho anche il cappello rosso oggi non è a caso. Marco Liorni è una delle persone più buone che conosco. Ma voi non sapete che la classifica è Dalai Lama, madre Teresa di Calcutta e Marco Liorni al terzo posto.